Tu sei stato prontissimo proprio a fine primo tempo sul risultato dell'1-0 a rispingere quel tiro con il piede hai portato la tua squadra, l'intervallo sull'1-0 è stata una parata molto importante anche per il proseguo del match Beh sì, diciamo che dal punto di vista, diciamo, per come è andata la gara, il primo tempo, ecco, alla fine abbiamo subito solo quello a parte poi il palo qualche minuto prima, però poi in effetti non ci hanno creato alcun tipo di problema nel reparto difensivo anche perché abbiamo una difesa molto solida, io faccio i miei complimenti alla mia difesa, molte volte se ne parla poco però abbiamo un reparto difensivo secondo me molto forte, ci lavoriamo tanto e ogni tanto secondo me bisogna spendere qualche parola importante anche per chi gioca indietro e non solo per chi fa gol, diciamo Noi siamo molto con i piedi per terra, nel senso che mancano ancora tante partite, ci sono ancora tanti punti in palio Sappiamo che ogni gara è importante, dobbiamo guardare a noi stessi al di là di cosa possano fare poi le squadre dietro di noi però la cosa importante e l'obiettivo di questo campionato fino alla fine è domenica dopo domenica gara dopo gara e bisogna pensare solo a quello Poi fra 12 partite sappiamo quello che sarà, cercando di fare, dobbiamo fare il massimo per noi stessi, per questa società che sta facendo tanti sacrifici ha fatto tanti sacrifici a capo il presidente Taglia la Tela per tutte le persone che ci seguono, per tutte le persone che sono sempre con noi sempre per quella vicenda capitata il 26 novembre tragico a casa Micciola soprattutto per loro anche e poi per i nostri tifosi che ci saranno e ci sono sempre vicino da ora fino alla fine Oggi era una partita importante, difficile, anche se contro una squadra sulla carta un po' rimaneggiata dal punto di vista organico e dal punto di vista societario però comunque sapevamo che non era una partita semplice anche perché loro hanno bisogno di punti per la salvezza per cui sapevamo di affrontare una squadra non forse a livello di organico molto, diciamo, di personalità, diciamo, singolarmente importante però, diciamo, sono tutti ragazzi che correvano e ci potevano mettere difficoltà e l'importante era la vittoria e ci siamo riusciti, quindi va bene così Durante la partita bisogna noi dietro, come ruolo mio, portiere, o io, Mirko, chi gioca indifferente L'obiettivo finale di ogni domenica è quello di fare risultato Per quanto riguarda l'aspetto mentale è importante perché bisogna mantenere sempre alta l'attenzione, la concentrazione non bisogna mai abbassare, diciamo, la guardia e gli stimoli ce li dobbiamo creare da soli anche se molte volte durante tante partite veniamo impegnati poco però bisogna farsi trovare pronti in quelle poche occasioni che magari possiamo subire Le sconfitte, come abbiamo già detto in passato, qualche giorno fa ci sono servite appunto per crescere dal punto di vista mentale e da non sottovalutare mai nessun avversario Le sconfitte che abbiamo subito quest'anno contro le tre più basse della classifica ci hanno fatto male tantissimo, dico la sincera verità e a livello mentale ci siamo chiusi in un guscio e questo guscio deve rimanere solido e dobbiamo andare avanti fino alla fine Grazie Grazie Grazie